Alla vigilia di Avellino, Virtus Francavilla e Biancoverdi arrivano con la rabbia di volerle riscattare la sconfitta in casa del Catania. I lupi di Mr. Braia sanno dell'importanza del match di domani contro una squadra che vorrà capire quale sia l'obiettivo vero del campionato, salvezza o play-off. Per questo motivo servirà una prestazione gagliarda, magari mettendo subito in chiaro le cose al partenio Lombardi, approcciando in maniera positiva e aggredendo subito un avversario che, per quanto possano essere alte le motivazioni, resta di medio rango. Per il tecnico toscano non ci sono molti dubbi di formazione. Un paio di carte le ha già scoperte ieri in conferenza stampa, come l'utilizzo di Rocchi al posto dello squalificato Luigi Silvestri e Maniero in attacco al fianco di Santaniello, più che Fella, perché Braia ha fatto riferimento a colui che ha giocato meglio a Catania. Se uno più uno fa sempre due, l'ex Picerno dovrebbe essersi meritato la conferma là davanti. In mediana ancora dubbi sulle condizioni di De Francesco e Carriero, che però si farebbe bene a non conteggiare. Ciancio e Tito sulle corsie, con Aloy in cabina di regia. Uno tra Rizzo e Adamo a fare da mezza la destra, visto che l'esterno palermitano ha convinto nel suo ingresso al Massimino. E inamovibile Sonni D'Angelo, autore di nove gol in campionato e a caccia di quella che sarebbe una doppia cifra inaspettata. L'appuntamento come di consueto per seguire il match è con Stadio e Studio a partire dalle ore 14.30 per Pre durante post-gara.